Ma perché i romani, i politici romani, i romani non lo so, perché non so se si è stato fatto un sondaggio, però quando c'è da pagare sicuramente direbbero di no, perché è normale che sia così. Perché i romani non vogliono pagare? Perché sono arretrati culturalmente, le pensano ancora a uno Stato che deve pagare tutto lui. Ah, arretrati culturalmente? Ah, arretrati culturalmente, quindi Alemanno, Alemanno. C'è una battaglia di arretratezza culturale in cui c'è ancora la logica di cui lo Stato deve pagare tutto lui. I romani sono così, però io sono romano, non sono così. C'è una battaglia localista che c'è dovunque, però in alcune parti lei considera che oggi il 90% degli italiani paga i pedaggi, c'è un 10% un po' sparso in tutta Italia che non li paga, però qualcuno se ne è fatta una ragione, qualcun altro fa queste battaglie. E dov'è questo 10%? Chissà dov'è questo 10%? Passiamo a Torino-Caselle per il nord, passiamo attraverso alcune tratte autostradali in Toscana, dove i compagnucci ovviamente non vogliono pagare, avevano una cultura del tutto gratuito per arrivare al grande raccordo mulare, per finire a Saerno-Reggio Calabria.